Fra le corse al trotto di maggior tradizione a Bologna c'è sicuramente il premio Wayne Eden Memorial Vincenzo Gasparetto, che si disputa dal 2000, l'anno dopo la scomparsa del grande allenatore e manager di scuderia. Chi era ce lo spiega Francesca Ritti, che ha ereditato la passione per l'Ippica e oggi è responsabile marketing e ufficio stampa di Ippogrupp Cesenate. Vincenzo Gasparetto era mio nonno e appunto ricordiamo in questa giornata di corse, oltre appunto a una cara persona per me, una persona che è stata particolarmente importante per l'Ippica italiana, perché è stato prima direttore di alcuni podromi come quello di Torino e poi soprattutto si è concentrato nel training di cavalli da corsa e poi in un'attività di scouting negli Stati Uniti, in America, per importare dei soggetti che poi hanno fatto in alcuni casi la storia del trotto italiano. Il Memorial Gasparetto è andato in scena domenica scorsa all'Ippodoro Marcoveggio di Bologna. Le due batterie sono state vinte da Alessandro Gocciadoro con Pocahontas Diamant e Visa AS, ma la finale è stata dominata da Zimmi Cab guidato da Antonio Di Nardo, premiato da Roberta Gasparetto e Francesca Ritti, figlia e nipote di Vincenzo Gasparetto. E giovedì 1 ottobre all'Arcoveggio si corre con al centro dell'attenzione la lotta per il titolo tricolore fra Roberto Vecchione, Antonio Di Nardo e Alessandro Gocciadoro, con Roberto Andrighetti a fare da quarto incomodo.